Allora, Presidente, scusate, io insisto perché ritengo che sia una prerogativa non perché faccio il sindaco, ma perché sono un consigliere comunale. Io ho fatto una proposta, Presidente, di rinviare l'accapo 3, 4, non so se c'è l'altro a capo. Quindi io vi prego di mettere la proposta in votazione. Chi non è d'accordo la può bocciare e può riproporre un'altra proposta. Però non è possibile che noi violiamo il regolamento. È una proposta che ho chiesto di mettere in votazione. Parla uno a favore, uno a contro, quindi la invito a procedere alla votazione. Grazie, Presidente. Allora, a questo punto, visto che è stato così esplicito, io metto in votazione la proposta del sindaco di rinvio dei tre cattivi.